Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Nelle scorse ore, una Instagram Stories di Belen Rodriguez non è affatto passata inosservata ai suoi fan Cosa ha combinato la bella showgirl argentina? Il suo gesto ha lasciato tutti a bocca aperta, scopriamo cosa è accaduto Stefano De Martino e Belen Rodriguez.Belen Rodriguez riesce sempre a catturare l'attenzione del pubblico in qualsiasi modo Nelle scorse ore, numerosi fan super affezionati a lei, non si sono lasciati sfuggire un dettaglio clamoroso in una sua Instagram Stories In particolare, la showgirl argentina, si è mostrata con un'altra persona a letto Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vediamola appunto Belen Rodriguez, altro che Stefano De Martino, cosa è successo? Ultimamente, Belen Rodriguez è tornata al centro dell'attenzione mediatica per il suo discusso ritorno di fiamma con l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino Dopo la rottura con il padre della sua secondogenita Luna Marie, lo scorso dicembre la showgirl argentina ha ricominciato a frequentarsi proprio con lui . I due genitori di Santiago hanno deciso di tornare ad essere una coppia I primi avvistamenti dai paparazzi e poi la conferma ufficiale con un video in cui si è filmata a letto con accanto il conduttore che dormiva Belen Rodriguez e Stefano De Martino.Delle breve immagini che hanno fatto scalpore I fan di Belen e Stefano sono tornati a sognare con il loro amore La presentatrice De Le Iene, è molto seguita sui social e i suoi numerosi fan non si perdono nemmeno un attimo della sua quotidianità che pubblica costantemente su social . Anche nelle scorse ore, la Rodriguez ha condiviso un breve video che ha generato una certa curiosità da parte dei suoi fan più attenti . La mamma di Santiago e Luna si è mostrata con un'altra persona a letto, scopriamo di chi si tratta . Belen Rodriguez a letto con lei, video.Poco fa, Belen Rodriguez ha pubblicato un breve video che non è affatto passato inosservato al popolo del web Dietro le quinte di uno shooting fotografico, la showgirl si è mostrata a letto con un'altra persona . Si tratta della sua fidatissima truccatrice, Cristina Isaac. Quest'ultima è comparsa all'improvviso e ha schiaffeggiato il lato B della bella Argentina . Un'immagine breve ma apprezzata da alcuni utenti della rete. Con Belen non ci si annoia mai, anche durante una giornata di lavoro, il suo staff si diverte sempre con lei . Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere . Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri . Ci vediamo nei prossimi video. Ciao